segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te siamo messi maluccio ma guardi era ampiamente atteso siamo a dicembre siamo vicino al picco influenzale che arriverà probabilmente intorno al capodanno e si è incrociata l'influenza con il covid che nella realtà non ci ha mai lasciato dopo di che la situazione emergenziale assolutamente no è chiaro che negli ospedali ci sono persone che hanno anche il covid fondamentalmente non ha tanto funzionato la vaccinazione perché purtroppo come siamo messi perché leggo che anche tra gli over 80 non sta funzionando soprattutto sugli over 80 perché degli altri ci interessa molto poco gli ovvero 80 devo dire che abbiamo percentuali che sono molto basse io credo che la circolare fatta dal ministro schillaci e dal bravo vaia ha consentito di riaprire gli app vaccinali in alcune regioni e credo che ci sia stata un minimo di ripresa nell'ultima settimana io credo che un buon regalo di natale per i nostri nonni sia ancora in questa settimana perché c'è ancora tempo portarli a fare il vaccino senatore forse si poteva fare qualcosa di più per favorire queste vaccinate